i 10 milioni di radioascoltatori. La radio a colori e la radio con le telefonate degli ascoltatori, una grandissima innovazione, un'idea di Luciano Rispoli, c'era tra i conduttori Gianni Boncompagni e molti bravissimi e grandi voci si alterneranno. C'era il professor Antonini che addirittura, una rivoluzione per l'epoca, commentava le relazioni sociali, le storie d'amore, il sesso, la caduta di tutti i totem e tabù.